Sono Yuba, volevo andare a pesca, però mi mancava il verme, volevo sapere se lei c'era quel giorno, capite? Chi è? Come? Sono Sanpei, per celatare o per blu aice, sono qui c'è lei, ne ho fatto pure un pochino. Lei ha un buffo di 15 euro con Cosimo, perchè gli ha fatto la Nella e poi è giocato a secchinetta. Ma chi sei? Io chi sono? Perché fai? Sì, da capra, basta! Ora io lanciare banana a presto di! Banana? Chi sei? Chi sono io? Chi è lei? Ok, andiamo insieme! Quanto sono Bonolis, senza, ma per caso ha visto tipo una scema che si chiamava... Vopovo! Pronto? Ehi! Ehi! Perchè gli sei pronto? Io sono pronto! Perchè gli amici che è pronto e mi confondi e mi prendi l'ansia? Potresti almeno comunicare meglio, visto che ti sento tanto male! Ehi! Ma che è pronto? E' un po' male il Duccatuccio! Non ti è vero! Più se devo guardare che amico... Forse a lei lei dà fastidio la parola omosessuale! Uomo scimmio! Ci sei? Pronto, sono la professoressa Bosco! Mi credevo se lei aveva qualcosa contro il frurito intimo! Che io ne ho tanto! Che io vengo i frigoriferi, che hai detto? Ma io ho dei fruriti intimi! Ho un rastrello, qualcosa! Una pigna, per caso! Parla in negro, parla in negro! Dai, dai! Rende! 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 Pronto, signore! Sono già da fatta! Vendi banane! Senti, volevo chiedere se li intrezzavano i miei prezzi! Vendo un bandarino... Due euro! Le mie palle... Due euro! Non ho capito niente che hai detto! E neanch'io, perché... Mi hanno rubato le palle! Non ho capito che dici? Le mie palle le ha legge! Eh? Luca! Dimmi, bello, dimmi! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Capra, allora... Dimmi tutto... Ridami 15 euro! Oh! Ridami 15 euro! Ridami 15 euro! Ridami 15 euro! Ridami 15 euro! Che c'è? 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 Sì!